11 milioni di euro direttamente dal governo, rifinanziata l'agenzia portuale per il sostegno al reddito dei circa 500 ex lavoratori portuali della TCT. La notizia viene data a Taranto direttamente dall'onorevole Ubaldo Pagano, sottoscrittore dell'emendamento approvato nel decreto 1000 proroghe. Scongiurato così il rischio licenziamento per questi lavoratori per i quali si sono esaurite sia la cassa integrazione che la mobilità. Ora con l'arrivo di Hillport nello scalo ionico si confida nella ripresa delle attività portuali e quindi il conseguente graduale rientro al lavoro dei circa 500 lavoratori. A breve si ultimerà anche la scrittura del cantiere Taranto, il decreto speciale che prevede l'uscita dalla monocultura del carbone e dell'acciaio che qui a Taranto ha vissuto di vicende che tutti quanti noi conosciamo e sul quale tutto il governo, tutta la compagine governativa è chiamata a una sfida per proiettare la città di Taranto verso il futuro. Già la prossima settimana il sindaco è impegnato in un tour in tutti i ministeri per affinare ogni questione. Con il presidente dell'autorità portuale siamo in costante contatto perché il piano strategico del porto che lui ha presentato al ministro De Micheli durante l'ultima visita possa diventare sempre più velocemente una concreta possibilità. Il modello porto potrebbe essere utilizzato anche per risolvere altre vertenze del territorio? Sì, il modello porto è il modello che ha funzionato più di tutti perché ha visto un dialogo continuo tra istituzioni, lavoratori e sindacati ottenendo un primo risultato quello di tre anni fa con l'istituzione dell'agenzia che ricordo tutti è stata una proposta che è partita grazie ai sindacati anche dal territorio supportata naturalmente dalle istituzioni e che quindi ha evitato più di 500 famiglie di andare a casa e ad avere un reddito in questi anni ed oggi ha avuto un ulteriore risultato che è quello comunque del rifinanziamento dell'agenzia all'interno del mille proroghe.